Tanto pensare a un convegno così importante con 2.400 iscritti, pensate, il doppio rispetto all'anno scorso, mi diceva Alberto. Quindi complimenti a UPA, al Presidente Sassoli, all'Alberto, all'Elisabetta per questa splendida organizzazione. Oggi vorrei portarvi in un contesto commerciale, vorrei condividere con voi se parte qua. Marcello, sono i nuovi numero 5. Vedrai che spaghettata. E la cottura la tengono bene. Di più. A quest'ora, eh? Allora Luisa, com'è? La migliore Barilla di sempre. Ed è solo l'inizio. Nuovi spaghetti numero 5 Barilla, in viaggio verso di voi. Ho voluto partire da un tristassi, perché qui abbiamo Salvatores, Favino, Barilla, che hanno comunicato in maniera tradizionale e hanno veicolato questo bellissimo spot, non oso pensare alla spesa, l'hanno veicolato sui media tradizionali. Ma la curiosità poi ci porta a ragionare anche su come viene veicolato lo stesso messaggio, ovviamente con un utilizzo, con un linguaggio social, sugli social stessi. Vi siete mai chiesti come nasce la pasta Barilla? Eccomi qui. Oggi ve lo racconto io. Il grano italiano arriva due volte alla settimana con il seno merci e viene scaricato nei silos. Questa è una bellissima scelta ecosostenibile. Dopo un'attenta selezione, il grano 100% italiano proveniente da 13 regioni d'Italia arriva al mulino. Qui il grano viene pulito, decorticato e macinato per ottenere la semola. Sante che ogni giorno qui si producono 700 tonnellate di semola. La pasta Barilla viene prodotta con solo due ingredienti. Semola di grano duro italiano e acqua vengono impastati per poi dare vita a vari formati. Infine la pasta viene speccata. Ecco qui la pasta confezionata e pronta per arrivare sulle nostre tavole. In Accademia Barilla ho assaggiato tantissimi piatti deliziosi e grazie agli chef esperti ho scoperto tantissime cose. Il formato di pasta più venduto sono gli spaghetti numero 5 e ho scoperto che il numero indicato sulle confezioni è legato allo spessore degli spaghetti. Vedere con i propri occhi come viene fatta la pasta Barilla è stata un'esperienza meravigliosa. Ecco qua, quindi abbiamo un chiaro esempio della comunicazione come si è evoluta. Stiamo parlando di un cambio di gioco, un cambio di passo. Come dicevo nella mia apertura pensare a pochi anni fa a trovarci qua in così tanti a parlare di influencer marketing è veramente impensabile. Impensabile perché? Perché di fatto oggi noi come Filmedia realtà indipendente che lavora direttamente con i brand e agenzie alla ricerca dell'ottimizzazione di KPIs e la messa a terra delle campagne. Quindi l'opportunità del brand è quella di andare a trovare un nuovo media che non è un media tradizionale, è un media che si evolve perché è umano, che si appoggia ai social. Pertanto è tecnicamente non è un gioco da ragazzi, anzi lo sta diventando, abbiamo visto anche dei numeri dei miei colleghi, sta diventando un media che tra l'altro, se vogliamo darci anche un numero, pensate che l'indotto oggi è arrivato alla quota della radio in questo paese. Stiamo parlando di una stima di 400 milioni di advertising anno e questo credo che dica tutto. E' cambiato, le regole del gioco sono cambiate e passiamo ovviamente da che cosa? Dalle grandi produzioni alle autoproduzioni. Possono essere sporche, possono essere tecnicamente meno roboanti ma c'è un altro tema che vorrei portare da voi e che anche qui c'è un'evoluzione. L'influencer, il content creator si sta strutturando, è più professionale, il consumatore anch'esso è molto più attento alla qualità del veicolo, dell'ADV, anche perché ricordiamoci che c'è un rapporto. Perché qui stiamo parlando di un essere umano che ha un rapporto con la sua community rispetto a chiaramente una ricerca spasmodica di un GRP, di un costo contatto su una audience generale, su media tradizionale. Dal vero simile al vero perché? Perché chiaramente perché si è più autentici, c'è poco da fare. Perché come avete visto prima l'esperienza della talent vive il brand in maniera più autentica, più vero, più profondo, più umano. E poi in fondo si passa al tema dello spettatore, alla community perché certo oggi si può fare una bellissima campagna, qui abbiamo preso l'esempio che abbiamo trovato online ma potremmo trovare mille altri esempi di grossi brand che investono. Ma l'esperienza di poter utilizzare un media nuovo, innovativo, chiamiamolo, utilizzando la parola inglese, disruptive, ma che si sa che è in fase di consolidamento come influencer è davvero significativo per un brand. Ma anche qui c'è un ma, ossia non può essere in un'improvvisazione. Lo dico a voi che pianificate quotidianamente chi centri media, chi agenzie, chi brand, è un elemento tecnico. È importante avere un esperto, un'agenzia o comunque qualcuno che vi possa aiutare a andare sul mercato in maniera sostanziale. E si arriva quindi poi al rapporto tra celebrities e influencer, ossia le regole del gioco anche qui sono cambiate, c'è una doppia visione, accedo al mio talent credo e capisco la sua vita e anch'io posso diventare volendo un talent. No, quantomeno ci posso provare. Noi lavoriamo con circa, facciamo circa un migliaio di talent all'anno e vediamo quanti ce ne sono là fuori che vogliono entrare anche loro nel business. Ed entreranno, però si devono strutturare. E anche lì c'è un altro tema di formazione non indifferente. Ultima cosa che riguarda questo tema di celebrity influencer sono le communities. Le communities sono delle verticalità. Io credo profondamente nella verticalizzazione in questo contesto perché non c'è dubbio che se io sono credibile, io sono talent, sono credibile sulla mia fan base, perché ho una digital reputation, perché racconto e vivo il brand con degli aspetti valoriali, allora il brand torna da me. E quindi c'è un'interazione tra il brand e il content creator o tant che sia. E questo sui media tradizionali non si può, è un tema proprio tangibile. Lo storytelling è un altro tema significativissimo, perché parliamo di ritmo narrativo, parliamo di prossimità e vicinanza, autoevolezza, affidabilità, è il perfect match. Il ritmo narrativo è il doppio viaggio che fanno tra Stories e Reel, è il palinsesto del proprio influencer, che è la sua vita, tornando al principio del fatto che è un essere umano. E la bellezza di questo lavoro, io che ho vissuto la televisione tanto e mi sono tanto divertito, la bellezza di questo lavoro è che è una nuova vita nel mondo del media, è un'aria fresca, è energia pura e soprattutto permette ai brand di capire e diversificare il loro marketing mix. La prossimità e la vicinanza è sentirsi ancora più vicini al proprio talent, quindi i social abbattono decisamente le distanze, e l'autorevolezza è la coerenza nel raccontare il prodotto. Un must have, dicevo prima, del media mix è fatto cento, la mia quota che ho dedicata ovviamente al mio prodotto, vuoi che sia sotto forma di awareness, conversione, e lì il pensato è che è un marketeer, io mi metto spesso nella testa, nelle scarpe di chi è là fuori, chi di voi deve veramente capire come ottimizzare il proprio investimento e oggi è davvero una sfida, ma lì la sfida è come ottimizzare quella flangia del mio cento sulla parte dell'influencer. E si può fare, il mercato parla, i numeri parlano, abbiamo visto molti numeri prima, ma a livello, anche guardandoci oltre la nostra Italia, vediamo che l'Europa continentale ormai cuba quasi 3 miliardi di euro di indotto, gli Stati Uniti siamo quasi a 14 billion, stiamo parlando di numeri pazzeschi, l'Italia oggi siamo a 400 ma il tendenziale è esponenziale. Dobbiamo essere molto attenti a, e qui vedo il Presidente che saluto, il tema qui è trovare una piattaforma di certificazione, perché ci sono tante piattaforme di certificazione, tanti tool che tutti noi utilizziamo, c'è chi li ha in casa, però anche lì un conto è averli in casa, un conto è avere un super partes che poi diventa più fruibile per mercato e aiuta il mercato a crescere. Ecco, questo non c'è ancora, ci auguriamo tutti noi che operiamo in questo mercato di trovarlo prima o poi. Torniamo un po' al tema del media mix, è chiaro che qui la diversificazione degli investimenti, l'ho appena detto, misurare certamente la bellezza del pianificare nell'influencer marketing, che non ho bisogno di interrompere la mia campagna su Publitalia e quindi fasciarmi la testa e piangere la notte perché ho investito 500 mila euro in uno spot. No, io fermo la lavorazione, fermo la mia campagna perché non va bene su Instagram o TikTok, faccio un rework e riparto e riparto. Costo? Accessibile. Efficacia? Diciamo che ce n'è. C'è tanto lavoro ancora da fare ma il tendenziale è assolutamente a vantaggio del brand oggi. Quindi è una grande opportunità, ripeto, per il brand investire sempre più in questo mercato perché è ancora a vantaggio del brand. Umanizzare chiaramente l'elemento valoriale del brand è fondamentale. E concluderei sul concetto che a noi è molto caro di film media che è fondamentale fare questo viaggio insieme sfruttando chi vi può accompagnare nella pianificazione con know-how conoscendo, noi lavoriamo con qualsiasi settore merceologico dalla GDO alla Automotive, al Cosmesi e via dicendo quindi conoscendo i vari settori perché noi non avendo in pancia influencer o talent andiamo a ottimizzare le campagne su tutto il mercato italiano ed è anche sul territorio europeo, lavoriamo sull'Europa continentale. Riconoscibilità, autorevolezza che abbiamo guadagnato e che ci guadagniamo sul campo ogni giorno che il Signore manda in terra e poi le relazioni con i principali stakeholders che sono siete voi ma sono anche i talent stessi sono anche le talent agencies che adesso vanno di gran moda ma diciamo tutto il mercato nel suo insieme. Grazie. Applausi Applausi